Perché dipingere qui sopra è come dipingere sulla ceramica, il legno, io trovo che dipingere sul legno mi ricorda il tempo quando dipingevo sulla ceramica, sulla maiolica, perché la pennellata qui deve essere molto leggera, sembrano, invece c'è tutta una leggera, questo è l'ultimo che ho fatto, che l'ho già dato via, questo non è già una cosa, perché sono tutti quanti pennellate piano, e poi dopo quando hai fatto, cioè si vede già il disegno, allora con la punta di pennello ci vai, ma ripeto, assomiglia molto alla ceramica, per me io trovo un pittore come io che facessi i tetti di Milano, con una campagna così come mi vedo, beh come faccio a farlo, perché un pittore, io vivo, sento queste cose qui che faccio, ecco, fai quello, e di fatto fu una lezione, poche parole.